Sardegna in bilico tra zona arancione e zona gialla. Se ne saprà di più in giornata, nel pomeriggio, ma al momento sembra difficile un cambio di colore, anche se la Valle d'Aosta dopo una settimana potrebbe passare dalla zona rossa all'arancione. Se la Valle d'Aosta dovesse davvero passare dalla zona rossa all'arancione in una settimana, in deroga le disposizioni del PCM che fissa in 14 giorni la permanenza in una fascia di rischio più alta, perché la Sardegna non potrebbe fare altrettanto passando dopo una settimana in zona gialla? E' la domanda che si sono fatti in molti dopo le indiscrezioni sui cambi di colore delle regioni e soprattutto sulla probabile permanenza della nostra isola in arancione per un'ulteriore settimana. Se ne saprà di più questa sera quando il Ministro Speranza firmerà le nuove ordinanze. Ieri intanto la Regione arriva dito al Governo la richiesta di passare alla zona gialla già da lunedì. Le motivazioni sono contenute in una relazione che l'assessorato regionale della Sanità ha inviato al Ministero e che fotografa il progressivo miglioramento del quadro epidemiologico nell'isola. La permanenza della Sardegna in zona arancione risulterebbe paradossale alla luce dei dati registrati nelle ultime settimane. Tutti i principali indicatori descrivono una situazione in miglioramento con un quadro generale compatibile con una fascia di rischio più bassa di quella attuale. Abbiamo già sollevato forti dubbi sull'attuale sistema di classificazione. Le misure restrittive sono indispensabili quando rispondono a precise necessità di contenimento del virus. Diversamente il pericolo è quello di vedere applicate limitazioni solo in virtù degli automatismi previsti dalle disposizioni normative, dichiarato ieri il Presidente della Regione, Cristian Solinas. Uno scenario di rischio basso di tipo 1 emerge nello stesso report provvisorio inviato dall'Istituto Superiore di Sanità alle Regioni in attesa di validazione da parte della cabina di regia. Se i dati fossero confermati, il monitoraggio della settimana di riferimento dal 26 aprile al 2 maggio indicherebbe per la Sardegna un indice di contagio RT di 0,74 in ulteriore discesa rispetto allo 0,81 registrato nella settimana precedente. Positivi anche i dati sulla pressione negli ospedali dove il tasso di occupazione si attesta al 22% sia per le degenze in area medica sia nelle terapie intensive, indici al di sotto delle soglie d'allerta previste. Alla luce di questi dati, ha detto l'assessore regionale Mario Nieddu, riteniamo che la Sardegna ha presenti requisiti per la classificazione in un livello di rischio inferiore rispetto a quello attuale. Una decisione in questo senso ristabilirebbe l'appropriatezza delle misure rispetto all'attuale situazione epidemiologica. Il quadro generale è in costante divenire. Le vaccinazioni proseguono in maniera massiva. Non intendiamo abbassare la guardia, ma tante attività tendono di poter ripartire. E allo stato attuale sarebbero in grado di farlo in sicurezza. Oggi la permanenza in zona arancione non sarebbe in alcun modo giustificata o giustificabile, ha aggiunto Nieddu. Non resta dunque che aspettare le prossime ore per capire se finalmente la Sardegna potrà passare con una settimana di anticipo nella fascia con meno restrizioni. Vediamo allora i dati. Iniziamo da quelli riguardanti la nostra città, riguardanti Alghero, perché continua la discesa dei positivi, lo vediamo, ad oggi sono 95 e meno 19 rispetto al precedente rilevamento, di cui 16 ospedalizzati, nello specifico i nuovi positivi sono 5 e i soggetti guariti sono 24. Le persone in quarantena invece sono 56. Confortanti anche i dati del bollettino regionale che ieri ha fatto registrare 128 nuovi casi a fronte di 3.537 teste, un tasso di positività del 3,6%, due i decessi e calano ancora i ricoveri. Sono 319 le persone attualmente ricoverate in reparti ordinari, 19 in meno, mentre sono 41, 5 in meno i pazienti terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.636 guariti, ieri sono stati 374. Questa schermata invece ci ricorda, o meglio ci informa, che domani al Lab del Mariotti, a proposito della campagna vaccinale, riprende il calendario con le annate che era stato sospeso, lo ricorderete, per la carenza appunto di dosi di vaccino. In particolare tra le 9 e le 15 di domani saranno vaccinati i nati nel 1961. Si inizierà appunto alle 9 del mattino per poi proseguire nel pomeriggio e si proseguirà ovviamente nei prossimi giorni con le annate successive. Torniamo ora invece sul caso scoppiato ieri, o meglio sulla decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge regionale sulla Posidonia approvata oltre un anno fa dal Consiglio regionale. Una decisione che ha sollevato tra l'altro un polverone di polemiche. La deputata algherese del Movimento 5 Stelle Paola Dejana con il consigliere regionale pentastellato Roberto Ligioi parlano di fallimento del governo regionale, ma c'è anche la dura presa di posizione dell'assessore comunale all'ambiente Andrea Montis. Il governo regionale persevera nella strategia fallimentare e colleziona un'altra bocciatura. Così la deputata Paola Dejana e il consigliere regionale Roberto Ligioi del Movimento 5 Stelle hanno commentato la decisione della Corte Costituzionale. L'articolato regionale era stato impugnato dal governo Conte, sottolineano i pentastellati, in quanto contempla delle disposizioni che appaiono costituzionalmente legittime in quanto eccedono dalla competenza statutaria della Regione perché contrastanti con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Per la Corte Costituzionale è legittima quando autorizza anche lo stoccaggio provvisorio della Posidonia con l'utilizzo di ruspe e camion. La stagione estiva alle porte, il consiglio ora deve correggere il testo, ma considerato l'andamento lento dei lavori e la tendenza a rinviare le sedute, è certo che si genererà il caos nelle comunità costiere, sottolineano i due esponenti 5 Stelle. Duro il commento dell'assessore all'ambiente Andrea Montis. Anziché esultare, ci piacerebbe capire quali sono i contributi dei rappresentanti regionali al governo per risolvere la problematica che pare non esistere, se non limitatamente uno scontro politico lontano dal trovare soluzioni, scrive in una nota. Nel frattempo l'amministrazione comunale si vede costretta in totale solitudine a mettere atti che regolarizzino la mala attività legislativa a tutti i livelli da una parte e la totale distanza dalle problematiche reali dall'altra, catalogando già come rifiuto tutta la Posidonia sinora rimossa nel corso di questa stagione e delle passate stagioni, privandosi della possibilità di poterla riposizionare a novembre nel caso in cui ve ne fosse bisogno. Una confusione dettata dalla scarsa conoscenza delle reali problematiche a tutti i livelli, attacca Montis, indicando anche le prossime azioni. La Posidonia ancora presente nelle spiagge, che aspetta di essere rimossa anche per rimettere in moto un'economia di vitale importanza per la nostra città, sarà depositata temporaneamente ai margini nord e sud dell'area dove insiste il canalone. Ce lo impongono e così faremo, spiega Montis. Quella ancora presente nella spiaggia di Cuguttu verrà invece accumulata ai margini della stessa spiaggia con la Pineta. Rimane poi il problema di Punta Negra, una piccola spiaggia che non ha gli spazi per poter accumulare la Posidonia presente e dovrà quindi rimanere sul posto. Ce lo impongono, lo spiegano i fruttori di quella spiaggia e la struttura alberghiera presente a cui l'anno scorso abbiamo restituito una spiaggia fruibile ed ecorosa. La Regione e il Governo che per troppo tempo si sono infischiate del problema o comunque l'hanno trattato in maniera oltremodo dilettantistica e con fini meramente politici e propagandistici mettano subito un punto alla situazione, lo sfogo finale di Montis o mi farò direttamente promotore di clamorose proteste a difesa dell'amministrazione che rappresento che in Italia, senza paura di essere smentito, è quella maggiormente ferrata sul tema in questione e che ha saputo trovare nuove strade e forme di tutela e che pretende di essere ascoltata, coinvolta e sostenuta economicamente. Sulla questione, a proposito di interventi politici, c'è da registrare anche quello dell'ex sindaco Marco Tedde che chiede un intervento del Parlamento con la collaborazione di tutti i livelli istituzionali ma anche del centro-sinistra che coglie l'occasione per criticare l'amministrazione Conoci. Spegniamo l'interruttore delle polemiche e chiediamo al Parlamento un intervento immediato l'ex sindaco Marco Tedde commenta così la decisione della Corte Costituzionale le sentenze si possono anche commentare ma sono inoppugnabili occorre prenderne atto e chiedere al Parlamento e alla Regione che aprano un'immediata interlocuzione per arrivare ad una soluzione legislativa statale che affronti il problema in modo razionale tutelando l'ambiente ma evitando di danneggiare la fruibilità turistica di tutti i litorali italiani interessati dagli accumuli di Posidonia. Secondo Tedde sono inutili gli interventi alla ve l'avevo detto di esponenti politici che dimenticano peraltro che l'impugnazione della legge regionale era stata decisa dal governo Conte e che rischiano di apparire sterili atti di sciacallaggio politico. Il problema si deve affrontare alla radice tutti insieme maggioranza e opposizione ne va della fruibilità turistica dei nostri litorali e dell'immagine complessiva di Alghero. Credo occorra tentare di individuare una soluzione tampone e transitori evidenzi all'ex sindaco ma nel frattempo il Parlamento deve intervenire con urgenza colmando la voragine normativa in tema di gestione della Posidonia provocata dalla sentenza. Intervenga l'assessore regionale dell'ambiente e solleciti parlamentari affinché propongano in tempi brevissimi una soluzione legislativa armonizzata con gli indirizzi regionali per la gestione della fascia costiera che in Sardegna disciplinano la materia in modo prudente ma lungimirante. I rischi di danni pesanti ad una stagione turistica che muove i primi passi post-Covid impongono massima coesione e assoluto senso di responsabilità, chiude Tedde. Alimenta le polemiche il centrosinistra che in una nota sostiene che la nota e l'impeto con cui l'assessore si scagliano contro la decisione della Corte decisione che ovviamente anche noi non condividiamo e che riteniamo piuttosto miope, si legge sia comunque un modo per confondere le acque e spostare l'attenzione dalla situazione della rimozione della Posidonia e della pulizia delle spiagge in cui anche quest'anno l'amministrazione Conoci risulta essere in forte ed evidente ritardo. L'assessore, proseguono i consiglieri di opposizione, dovrebbe piuttosto dar risposte sul fatto che a San Giovanni nella rimozione della Posidonia siamo ancora in alto mare seppure siamo già a maggio e senza voler fare facili ironie sulle spiagge pulite tutto l'anno. Dovrebbe far capire perché quest'anno siamo così terribilmente indietro con i passaggi del pulis-piaggia dovrebbe spiegare perché a Cuguttu ci sia sabbia mista Posidonia ferma da due anni con tutti i rischi che parte del nostro oro bianco vada perduto. Dovrebbe dire perché dell'impianto di trattamento della Posidonia da realizzarsi a San Marco siano rimasti solo gli annunci e una cerimonia per la firma. In definitiva noi concordiamo sul fatto che il parere della Corte non tenga conto della difficoltà di declinare un principio normativo generale nella specificità dei singoli territori come peraltro crediamo che il parere dia conferma ancora una volta dell'incapacità del legislatore regionale che colleziona una bocciatura dopo l'altra. Nel nostro piccolo concludono dal centro-sinistra riteniamo si debba lavorare a tutti i livelli istituzionali perché si creino i presupposti per modificare il parere perché si giunga una soluzione differente anche e soprattutto grazie all'esperienza e alle buone pratiche sperimentate ad Alghero ma per favore nell'amministrazione Conoci si smetta di ricercare altrove scuse per giustificare i propri errori e i propri ritardi. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria tra poco con la seconda parte. Il rapporto tra amministrazione e Università di Sassari prende corpo con il rafforzamento delle relazioni con la città di Alghero e la crescita della collaborazione per una più efficace integrazione con il tessuto sociale ed economico del territorio. Ieri incontro a Portaterra, accordo di partenariato sulla programmazione comunitaria e sullo sviluppo e rafforzamento della presenza dell'Università d'Alghero. All'incontro di ieri a Portaterra erano presenti il magnifico rettore dell'Università di Sassari, il professor Gavino Mariotti, il direttore generale, il professor Marco Breschi e il professore Emilio Turco, direttore del Dipartimento di Architettura e Design Urbanistica con il sindaco Mario Conoci e l'assessore Marco Di Gangi per una serie di tematiche sulle quali Comune e Università stanno lavorando in stretta sinergia. L'avvio di azioni concrete della Facoltà di Architettura si traduce con la creazione del percorso per l'istituzione del corso di Design ad Alghero per ampliare l'offerta formativa del Dipartimento. Con l'avvio delle azioni comuni per la realizzazione della Casa dello Studente in città, servizio ormai essenziale per rendere sempre più adeguata l'offerta dell'Università ad Alghero. Gli accordi con il Comune e con il sindaco Mario Conoci e il rettore Gavino Mariotti hanno affrontato, vertono anche sulla programmazione. Comune e Università con il DUMAS, ovvero Dipartimento delle Scienze Umanistiche, intendono rafforzare le attività di programmazione dell'amministrazione comunale. A questo scopo verrà costituito un gruppo operativo composto da Comune, Fondazione Alghero, Parco di Portoconte e Università. La collaborazione con l'Università e la creazione di una rete di competenze è essenziale per la partecipazione ai programmi comunitari, soprattutto se contiene alti livelli di autorità scientifica, che si basa sulle esperienze e capacità progettuali dell'Università di Sassari, ha affermato il sindaco Conoci, che ha aggiunto. A breve convocherò il tavolo della programmazione per favorirne al più presto l'operatività che va nel solco della preparazione alle fasi di rilancio post-pandemia, alle quali ci dobbiamo far trovare pronti, anche facendo nostri, gli importanti suggerimenti che pervengono da parte della nostra coalizione sull'istituzione dell'Ufficio Europa. Nell'ottica del rilancio della Facoltà, con la facilitazione all'accesso ai corsi di studi, con il progetto che rafforza anche dal punto di vista tecnologico la Facoltà di Alghero, c'è anche l'accordo per l'avvio di una nuova stagione in tema di servizi agli studenti, accessibilità, inclusività e fruibilità degli spazi. Alghero, questo è l'accordo, lavorerà per mettere a disposizione un nuovo Student Hub, un sistema di spazi studio funzionali alle attività degli studenti. Nell'incontro si è parlato anche della gestione delle biblioteche universitarie e comunale ospitate al Santa Chiara. Il professor Mariotti tornerà presto in città per un incontro allargato con gli amministratori interessati ai settori di collaborazione individuati. Confese Arcenti, Sassari Gallura, promotrice della ripartenza del sistema Paese. Nuovo innesto con l'imprenditore algherese Enrico Daga, che entra così a far parte del direttivo del Presidente Boccia. Andare oltre la propria missione legata alla capacità di rappresentare le esigenze degli operatori economici in uno scenario mutato radicalmente e assicurargli efficaci servizi di assistenza e formazione per porsi come interlocutore autorevole delle istituzioni e degli attori politici, economici, sociali e culturali, territoriali e regionale, ritaneandosi così un ruolo attivo nei processi di sviluppo in cui il Nord Sardegna è coinvolto e fungendo da agenzia di programmazione, pianificazione e progettazione di un futuro basato su innovazione e sostenibilità. E' questa la missione che Confesercenti Sassari Gallura affida al processo di rinnovamento organizzativo varato dal suo management per l'associazione delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo, dei servizi e del piccolo artigianato del Nord Sardegna. La stagione storica a cui si va incontro è un punto di svolta. La gognata ripartenza del sistema Paese dopo un'emergenza che ha fiaccato economia e mercato del lavoro nelle intenzioni del Presidente Giuseppe Boccia e del direttore Gianni Simula è un'opportunità per ripensare modalità e finalità con cui Confesercenti Sassari Gallura interpreta attivamente il suo ruolo e il suo mandato strategico. Confesercenti vuole aprirsi al coinvolgimento degli imprenditori disposti a contribuire al rilancio del territorio andando oltre gli interessi singoli e settoriali inserendoli in un più ampio ragionamento che garantisca al Nord Sardegna uno sviluppo complessivo e duraturo. Va in questa direzione il primo innesto operato in un direttivo che lavorerà collegialmente senza eccessive gerarchie o categorizzazioni proponendo tra le tante novità anche un diverso modello di gestire e comunicare l'associazione. Si tratta di Enrico Daga, 51 anni imprenditore algherese che dopo la gavetta nelle attività di famiglia si è occupato a lungo di politiche di sviluppo col pensiero sempre rivolto al protagonismo delle imprese tanto nelle istituzioni locali quanto nel sistema di rappresentanza delle imprese stesse. Daga entra nel direttivo cooptato dal presidente Boccia come coordinatore territoriale della programmazione e dello sviluppo locale. Ripensare il modo di rappresentare le imprese significa immaginare un'organizzazione in grado di svolgere attivamente il ruolo di promotore delle strategie di sviluppo locale e la scommessa di Enrico Daga. Vogliamo diventare un'agenzia di programmazione territoriale aggiunge ponendoci come modello anche per altri territori e interagendo efficacemente con gli altri attori territoriali. Noi invece chiudiamo con lo sport la Palacanestro Alghiero riparte anche con il mini basket allenamenti al Palamanchia e all'aperto dall'unidì 3 maggio in presenza ma ancora senza possibilità di giochi con contatto ripartono gli allenamenti per tutti i ragazzi appunto nel mini basket nati dal 2015 al 2010. Vogliamo ridare ai ragazzi il divertimento l'amicizia, il confronto e la gioia di praticare uno sport di cui sono stati privati ha detto il responsabile Antonello Muroni le nuove iscrizioni sono già aperte per venire incontro alle esigenze delle famiglie è stata proposta una nuova modalità che coinvolgerà sia i mini atleti sia i ragazzi che volessero approcciarsi per la prima volta al mini basket e al basket divertendosi in sicurezza versando la sola quota di iscrizione per i mesi di maggio e giugno. Tutti gli allenamenti verranno svolti al Palamanchia con orari differenti per le varie categorie. Inoltre continua di domenica un'idea nata dalle esigenze di affrontare la problematica Covid associata al mini basket abbiamo scommesso su questo progetto spiega ancora Muroni e siamo molto contenti dei risultati ottenuti sia in termini di entusiasmo che di partecipazione per questo motivo di domenica proseguirà per il resto della stagione la felicità dei bambini e delle loro famiglie è per noi il primo e migliore di questa iniziativa dopo tanti mesi di difficoltà prima sanitaria e poi sportiva la voglia di far riprendere ai ragazzi l'attività in presenza anche se senza contatto in palestra e all'aperto è immensa vogliamo poter continuare a giocare il nostro meraviglioso gioco sport in tutta sicurezza seguendo i protocolli sanitari emanati dalla FIP bisogna ridare al loro divertimento l'amicizia, il confronto e la gioia di praticare un gioco sport di cui sono stati privati ribadisce tutte le attività fa sapere saranno organizzate nel rispetto dei protocolli della Federazione Italiana Pallacanestro e delle normative anti-Covid per oggi è tutto io come sempre vi lascio al meteo grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti